Grazie e buonasera a tutti, benvenuti al Teomago Show! Partiamo subito con un gioco semplice, useremo le carte, ne scegliamo una, la rimettiamo nel mazzo, mischiamo... Ebbene, io indovino che lei ha estratto il trench di pelle, il set di borse e il dieci di tacco. Come si fa a avere così tanto con una carta sola? Semplice, il trucco è usare carta Tivagos. Carta Tivagos è una carta che bastano delle frate e compaiono i soldi. E poi, 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 poi possiamo restituire il tutto a rate, un po' come la mia assistente. E allora cosa aspetti? Goditi anche tu la magia dello shopping con carta Tivagos. Abra cadagos.